RYOBI IKON Corpo in metallo e rotore in NCRT che offre una rotazione fluida e precisa Due cuscinetti tra l'albero e la frizione per gestire al meglio i combattimenti più difficili al limite del carico di rottura della lenza Capacità bobina fino a 200 metri nella versione 8000 con filo dello 030 Disponibile nei modelli 2000 fino alla versione 8000 RYOBI IKON Potenza ed affidabilità Distribuito da Tubertini Grazie